Musica Ciao amici, qui è il vostro Bomb DJ Axe E questa è una nuova puntata della rubrica A tal dei me Rubrica che è partita quasi per scherzo e che sta diventando un must su YouTube In tantissimi ci avete iscritto, in tantissimi vi siete iscritti al canale della band NonEntityTV E in tantissimi ci avete chiesto i trucchi per iPhone 6 ed iPhone 6 Plus Ricordate, si dice Plus, è latino Quindi io vi ricordo di mettere mi piace sulla pagina Facebook NonEntity della band Di iscrivervi al canale NonEntityTV di YouTube I NonEntity sono una band che spacca il culo E prendete taccuino e penna Taccuino lo diceva mia nonna Partiamo con i trucchi per iPhone 6 ed iPhone 6 Plus Bene Per prima cosa partiamo con il risparmio della batteria Anche se su iPhone 6 Plus non avremo più questa impellente esigenza Perché la batteria dura diversi giorni Però su iPhone 6 dura meno E quindi comunque partiamo con qualche piccolo consiglio per risparmiare batteria Come prima cosa andiamo ad impostare la luminosità Quindi impostazioni, schermo e luminosità Togliamo il flag da luminosità automatica E impostiamo la luminosità appena sotto al 50% In questo modo, come potete vedere, comunque la luminosità è ottima Però la batteria vi ringrazierà Poi, sempre in impostazioni Andiamo in localizzazione Quindi privacy, impostazioni privacy Localizzazione E qui attiviamo solo la localizzazione dei programmi che ci interessa Ad esempio Google Maps Per quanto riguarda il navigatore Twitter, Facebook Ma solo effettivamente se vogliamo Su questi programmi la localizzazione In automatico sarà attiva su tutti E quindi vi farà consumare un sacco di energia Voi attivatela solo ed esclusivamente nei programmi che vi interessa Si attiva Un'ultima cosa per risparmiare energia Andiamo in impostazioni Andiamo in generali E andiamo in aggiornamento applicazioni in background Qui disabilitiamo il flag Perché queste applicazioni che vengono continuamente aggiornate in background Quando siete fuori, quando siete in ufficio, quando siete via Vi fanno drenare la batteria Disabilitandolo le applicazioni verranno aggiornate solo quando sarete connessi a una rete wifi Quindi a casa E quindi non avrete bisogno in mobilità di avere una batteria carica Quindi disabilitiamo aggiornamento applicazioni in background Bene, come secondo trucco che nessuno conosce È un trucco relativo alla fotocamera Ed è molto utile Perché andando in fotocamera In alcune circostanze vi potrà risultare scomodo Cliccare sul pulsante bianco per fare le foto Anche perché cliccando il telefono si muove Quindi potrebbero venire delle foto mosse Ma andando ad agire sul pulsante più del volume Vi faccio vedere L'iPhone Vi scatta la foto Quindi Non abbiamo più bisogno In alcuni casi ovviamente Di cliccare sul pulsante bianco Che vi fa muovere il telefono Ma andando a cliccare direttamente sul pulsante volume Come se fosse una macchina fotografica compatta Terza funzione È la cosiddetta reachability di Apple C'è la possibilità di spostare L'interfaccia Quindi farla scalare A metà schermo Questo serve per riuscire ad arrivare Col dito Dove evidentemente non potremo arrivare Sui pulsanti in alto È disponibile sia per iPhone 6 che per iPhone 6 Plus Tappando due volte Attenzione non schiacciando Tappando sul pulsante menu L'interfaccia come vedete scala E quindi è molto più comodo Arrivare Direttamente ai pulsanti in alto E quindi a quel punto Aprire il menu Per uscire dalla funzione reachability Basta tappare due volte E il terminale torna come prima Quarto trucco è la funzione messaggi Quando vi arriva un messaggio Vi apparirà un pop up Qui in alto Non c'è bisogno di uscire Da quello che state facendo Entrare in messaggi E rispondere Ma quando vi arriverà il messaggio Qui in alto Basterà Tirare giù la tendina Vi apparirà un'ulteriore riga E in quella riga potrete Direttamente rispondere Adesso ci sarà il tasto invia E quindi rispondere direttamente Dentro l'applicazione in cui siete Senza bisogno di uscire Entrare nell'applicazione messaggi Mandare il messaggio Riuscire a rientrare Dove eravate prima Tutto semplicemente Dalla tendina Che vi si presenterà qua sopra Quindi vi arriva il messaggio Tirate giù la tendina Vi appare un ulteriore riga Dove potete scrivere Vi apparirà la tastiera Scrivete Invia Ultima funzione Che probabilmente conoscerete Ma non conoscerete In questi dettagli È la funzione notifiche Con iPhone 6 6 Plus E soprattutto con iOS 8 Apple ha introdotto Il centro notifiche Quindi E nel centro notifiche È possibile inserire Delle scorse toiche Che sono molto molto comode Vi faccio un esempio Siamo all'interno Di qualsiasi applicazione Io sono qui dentro Il calendario Ma qualsiasi altra applicazione Tirando giù la tendina Vi apparirà il centro notifiche Il centro notifiche È assolutamente personalizzabile Qui Abbiamo le notifiche Dei programmi Qui abbiamo invece Dei veri e propri widget Che potrete Io di questo vi voglio parlare Potete personalizzare Come più vi piace Io ad esempio ho messo Il meteo Come widget Le notizie E Questa applicazione Che si chiama launcher Che è molto comoda Perché Mettendo Delle scorciatoie Potete andare direttamente Nel programma Che vi interessa Ad esempio Quindi vi rifaccio Io sono dentro il calendario Ho bisogno di andare In impostazioni Per visualizzare una cosa Urgentemente O all'interno di facebook Di messaggi Quello che vi pare Dovreste fare Uscire Dall'applicazione Andare A trovare Impostazioni Cliccare su Impostazioni E così via In questo caso Torniamo dentro Il calendario Tiro giù Notifiche Impostazioni E l'iPhone Direttamente Va in impostazioni Stessa cosa Sono sempre dentro Il calendario Devo entrare su facebook Devo semplicemente Tirare giù E andare su facebook E andare su facebook E andare su facebook E andare su facebook